La La Paz Band e Oma Ducari e Ilari Blasi presentano le IELTSUITI! Ragazzi partiamo subito con una nostra unica e inimitabile intervista doppia, la coppia più piaccherata di Italia. E' la nostra intervista! Pugliavola! Giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? Giuro. Nome? Eleonora. Adriano. Panelli. Età? 36. 40. Stato civile. Tutto a sposare? Dubbile. Stato mentale. V. Adesso. Che lavoro fai? Fisioterapia. Eh, lavoro ora. Saluto Adriano. Ciao. Dario Nora. Ciao. Perché ti vuoi sposare? Perché è giusto. Ti fa un po' di vacanze. Dove vi siete conosciuti? Al Pinone. Al Canepie. E' stato un colpo di fulmino, una botta e via. Nessuno dei due. Ehi, boi, boi. La parte di te che più ti piace? Il carattere. Che bello. La parte che più ti piace dell'altro? Il carattere. Tutto. Sei bugiardo? No. A volte. Cosa ti arrapa? Tu non hai idea. Cosa ti ammoscia? Ammosceria. Gambaletti. La vostra canzone preferita? Se il processo è la città. Negli occhi tuoi. Cantalo un pezzetto. Negli occhi tuoi. Negli occhi tuoi. Non so il colore. Non so il colore. Fai il verso dell'indiano. Sorridi a 32 denti. Posizione preferita quando fai l'amore? Come capita? Preferisci la sera o la mattina? Eeeh, quando è? La prima cosa che guardi in una donna? Il federe. Ti capito? Chi comanda fra i due? Io. Io. E scrivi con tre parole il tuo partner. Simpatico, disordinato e buono. Una bella fine. Il tuo ideale di uomo. Simpatico, disordinato e buono. Come chiami il tuo partner in intimità? Amor. Emma. Simula un orgasmo. Bello. Quanti rapporti hai in una settimana? Momentaneamente zero. Dipende. Mai controllato il cellulare del tuo partner? Sì. No. Fai un urlo. Aaaaaah! Fai una pernacchia. La faccia più brutta che puoi. La parolaccia che dici più spesso. Spesso. Cazzo. Quella che ti dicono più spesso. Struzza. E in modo di tutto. Cos'è il punto G? Una cosa che fa piacere. Se la trovano. Punto che serve. Cosa avete pensato quando avete parlato di matrimonio? E che mo so cazzo. Stare insieme. La prima volta che l'hai fatto che ta' avevi? C'era la rivoluzione francese. C'era la rivoluzione francese. Ehm. Hai fatto cilecca? Io no. Io ti dando il cavio. Quanto c'è l'allunga Adriano. E' un bravento. E beh. Quello che serve. Cosa vuoi dire ai tuoi socieri? D'accordo. Destra o sinistra? Destra. Sopra o sotto? Sopra. Romantico o passionale? Un po' un po'. Appassionale. Sei geloso? Mmm. Quanto basta? Chi è più simpatico? Beh. Tutte e due. Tutte e due. Ti masturbi? Ma non capita. Sei innamorato? Sì. Sì. Tre motivi per cui vale la pena sposarsi. Condividere. Litigare. La famiglia. Stare insieme. E rimanere incinta. E il sesso. Ti ubriacherai al matrimonio? Sicuro. Ti pare? Fai il verso di un animale. Sei felice? Sono felice. Convinci tutti che sei veloce. Sono felice. Sono felice. Sono felice. Sono felice. Ancora di più. Sono felice. E adesso balla questa canzone. Finita. Fai un saluto all'altra metà. Ciao amore. Ciao. Fai un saluto a tutti. Sei stufo di queste domande? Sì. E allora sei libero e puoi dire tutto ciò che vuoi. Basta. E un saluto a tutti. 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 Grazie a tutti.